Ben trovati allo speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Si chiama Un fiore per l'Ucraina, lo spettacolo che da Firenze porta un vento di speranza e soprattutto di solidarietà per la popolazione martoriata dalla guerra. Quasi un contrapunto della bellezza al disastro che la guerra in Ucraina sta provocando. Un modo per tenere alta l'attenzione su questi terribili eventi e per far sentire la vicinanza della comunità toscana anche ai cittadini ucraini giunti sul territorio. Questo è il senso dell'iniziativa di beneficenza Un fiore per l'Ucraina che si terrà domenica 12 giugno alle 20.45 al Teatro di Cestello a Firenze. Scopo dell'evento è quello di raccogliere fondi da destinare a medicinali e generi di prima necessità per la popolazione gravemente colpita e sofferente per le conseguenze della guerra. È importante perché là dove si esprime ciò che di meglio gli uomini e le donne sanno fare, cioè nel mondo dell'arte e dello spettacolo, pensare che quel prodotto venga dedicato a chi in questo momento non può fruirne, è costretto a rinunciarvi pur essendo appartenendo a un popolo che ha una grande tradizione di passione per il teatro, per lo spettacolo in generale, è un modo per tenere alta la nostra attenzione, per concretamente esprimere un gesto di solidarietà e per far sentire la presenza della comunità anche a quei cittadini ucraini che ci hanno raggiunto nel frattempo e che sono sul nostro territorio ora. Io ho visto la gioia relativa, ma il sentirsi sollevati e accolti di tanti ucraini e ucraine che sono qua e che hanno potuto magari condividere con noi momenti di questo tipo. È uno spettacolo importante, è bellissima l'idea del biglietto sospeso, io ne acquisterò senz'altro almeno uno, invito tutti a farlo e a partecipare perché dobbiamo far sentire la nostra voce. Come vedete la legge della comunicazione è spietata e già la guerra occupa le colonne esime dei quotidiani, almeno non ci siano fatti eclatanti, sembra quasi che non ci sia più, ma la guerra in realtà c'è, sta andando avanti, il popolo ucraino sta soffrendo e dobbiamo necessariamente tenere altra la nostra attenzione su questo momento. La serata vuole essere anche un momento di condivisione e serenità, un ponte di fraternità tra noi italiani e gli ospiti ucraini giunti come rifugiati in città, tra i quali anche bambini e adolescenti nel segno della bellezza e delle arti che uniscono e possono offrire attimi di rigenerazione. Attraverso la bellezza, l'arte, la musica, la magia di portare un ponte che sia di pace, un ponte di fraternità italiani e ucraini insieme e quindi ricreare una serata anche di serenità insieme. In Ucraina si va molto a teatro e questa è una cosa che forse qui si sa pochissimo e tutti abbiamo in mente le immagini di un teatro, quello di Mariupol che è stato anche luogo di accoglienza, i teatri sono questo, sono luogo dove si rappresenta la vita, si racconta l'essere umano ma sono anche luoghi di accoglienza e questo vogliamo essere. Con noi in questa serata ci saranno degli artisti, tutti quanti presteranno la loro opera gratuitamente, chiaramente e volontariamente, lo stesso teatro di Cestello che ci accoglie e mette a disposizione la sala e le sue strutture gratuitamente. Sul palco si alterneranno diversi artisti che presteranno la loro opera gratuitamente, Michele Pecora, cantautore, Eka, cantautrice ucraina, Silvia Vavolo, cantautrice, Mighty Nepple, band rock pop italiana, Mattia Boschi, prestigiatore. Condurranno Marco Predieri e Raffaele Totaro, nove le realtà fiorentine coinvolte nell'organizzazione dell'iniziativa tra cui Un fiore per la fortezza. L'obiettivo è quello di far sentire i bambini, i ragazzi che sono arrivati a Firenze parte della nostra collettività e quindi questa serata ha questo scopo, cioè lo scopo di lasciare un pochino a casa i dibattiti, le tavole rotonde, quelle propagande che diciamo ultimamente sono anche fuorvianti e pensare alle persone. Abbiamo abbracciato questa iniziativa perché secondo noi è importante che il teatro faccia sentire la sua voce in un momento in cui c'è fin troppa confusione, che si faccia silenzio, che si guardi al cuore. Il teatro, lo spettacolo dal vivo fa questo e noi siamo orgogliosi di poter fare questo. Penso che l'iniziativa possa avere ancora più validità se viene abbracciata da tutti coloro che sentono di poter dare un contributo, quindi vi invitiamo non soltanto a venire allo spettacolo perché è uno spettacolo di altissima qualità, ma anche e soprattutto a non lasciare sole queste persone. L'arte che fa ingresso a Palazzo del Pegaso con i racconti e le suggestioni del pittone cortonese Alessandro Gavilli. Un artista coraggioso e un caro amico che attraverso le sue opere scava nei sentimenti e nei valori profondi e antichi dello spirito umano. I suoi quadri sono un intreccio virtuoso di cavalieri medievali e animali chimerici, volti che emanano una forza interiore straordinaria e sconosciuta, a cui fanno da cornice naturale, al tempo stesso fantastica, giungle meteoropolitane e suggestivi scorci della Cortona millenaria. Così il vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale ha presentato il pittore cortonese Alessandro Gavilli, autore della mostra Racconti e Suggestioni, inaugurata presso lo spazio espositivo Carlo Azzelio Ciampi di Palazzo del Pegaso. Uno studiare, uno meditare lo spirito umano, ritrovare i valori che sono profondi, che sono antichi, come la nostra Cortona da cui proveniamo sia io che l'artista, e che oggi riceve qui a Firenze un bel segnale anche di attenzione per il nostro territorio. Questo palazzo continua ad aprirsi verso l'esterno e lo fa oggi accogliendo uno degli artisti cortonesi in cui sono più legato anche dal punto di vista umano. Fratellanza, Re Covid-19, Maternità, Terzo Mondo, sono solo alcuni dei titoli delle 20 opere esposte che attraverso il bianco e nero e tocchi sapienti di colori riescono a evocare una sintesi metafisica e simbolica tra vita e sogno, mito e realtà. Ho cercato di dare il meglio per quanto riguarda il pensiero, quello che uno può trasmettere alle persone e tutto quello che disegno, tutto quello che faccio, come ad esempio Africa, che rappresenta la tragedia dei profughi, oppure chiaramente Fratellanza, oppure il Covid-19, ma ce ne sono anche altri, come il Torologo, raccontano delle storie, delle storie umane in cui ognuno si può rappresentare e riflettere, perché al giorno d'oggi manca molto la riflessione. Le persone sono molto più legate al vedere, al mangiare e fuggire, invece c'è bisogno di pensare, di riflettere e di ascoltare. Disegni quelli di Gavilli, che come ha sottolineato lo scrittore e giornalista Nicola Caldarone, attraversano i momenti significativi del Novecento e riescono a restituire, grazie al suo tratto caratteristico, una sintesi straordinaria dell'essenzialità di sentimenti universali, comunicandoli con forza allo spettatore. La mostra attraversa un po' tutti i momenti più significativi della pittura del Novecento, dall'espressionismo al cubismo, all'astrattismo, insomma c'è un po' di tutto, una sintesi diciamo di queste correnti pittoriche che Alessandro Gavilli riesce in qualche modo a fissare in questi argomenti che egli intende comunicare allo spettatore. Ecco, non è più l'interesse verso il quadro, ma l'interesse verso chi osserva, in modo che i sentimenti che egli cerca di sintetizzare e di sintetizzare questi dipinti possano giungere allo spettatore e migliorarlo soprattutto. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno. La cultura con il blues, quindi la musica protagonista a Torrita di Siena. Compleanno speciale per il Torrita Blues, il festival arrivato alla 34esima edizione, accenderà il cuore di Torrita di Siena, dove si svolgerà dal 23 al 25 giugno nella splendida cornice di Piazza Matteotti. Quella ripartenza è veramente alla grande, perché avremo intanto, si inizia con una serata di solidarietà, perché ci sarà la classica scena in piazza, con ospiti dei profi ucraini che sono in zona indiocesi. Oltre a questo ci saranno anche le semifinali nazionali dell'Italian Blues Union. Si passa poi al venerdì, dove abbiamo come ospite un grande nome, Alex Britti, presieduto anche da una band italiana, non lo so, Lombardi, Cech Franceschetti e The Stompers. Sarà anche questa una piccola chicca che aprirà il concerto di venerdì. Sabato io la definisco una seratona, perché da tanto tempo che aspettiamo questi artisti inizieranno due grandi performer inglesi, uno è Paul Lamb, un armonicista, uno dei più importanti nella scena musicale inglese, e dopo ci sarà ovviamente Keith Fletcher, che è uno degli emergenti più volte nomination al Blues Grammy Award, viene con la band originale americana, e quindi sarà veramente un grande spettacolo. Sia al venerdì, ovviamente, per sentire Alex in una situazione molto blues, direi, perché ritorna alle origini, e poi ovviamente il sabato ci dirà con questi due grandi artisti internazionali. Quindi il Teorità Blues ritorna, diciamo, se vi consentite un termine, ai fasti del pre-Covid. 34esima edizione, il Comune è sempre stato dalla parte del blues in tutti questi anni, e stiamo allestendo come sempre un bel palco, una bella copertura, e la nostra piazza Matteotti saprà accogliere queste tre giornate interessanti. Anche la prima, che è fuori programma, da un certo punto di vista, ci sarà una scena pro-Ucraina, con anche le semifinali dell'Italia Blues Union. Poi la serata forse club per i meno esperti del blues è quella con Alex Britti, quindi la serata del venerdì, e poi invece sabato si concluderà il 34esimo edizione con una serata più di nicchia, dove esperti di blues sapranno sicuramente ascoltare questa musica tanto cara al nostro territorio. Una realtà molto consolidata, quella del Torrita Blues, che richiama appassionati non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo. Un'esperienza molto bella, importante, e devo dire, quando si giudicano le iniziative, le esperienze culturali, i progetti, si deve sempre guardare i frutti. Io credo che 30 anni siano un signor frutto, e che si debba essere orgogliosi di questa iniziativa che fa capire e testimonia come la Toscana abbia nella cultura e nell'attività culturale uno dei suoi asset fondamentali. Per noi la cultura è lavoro, impegno, è vitalità dei territori, senso di appartenenza, è una linea di sviluppo che vorremmo sempre più con la Commissione e con la consigliera Rosignoli, che di Torrita, ma appartiene alla Commissione Cultura, vorremmo far diventare davvero un mantra, un convincimento che tutti i toscani e le toscane debbono avere. La cultura rende migliore l'aria che respiriamo, le esperienze culturali come Torrita Blues rendono migliore l'aria che respiriamo tutti, chi ci lavora e chi non ci lavora, chi va ai concerti e chi non ci va. È importante che ce ne siano, ce ne siano molte e dobbiamo essere molto grati agli organizzatori che fanno salti mortali con le poche risorse che spesso riusciamo a destinare a questi obiettivi per realizzare cose belle che migliorano la vita di tutti e che davvero rendono onore a una storia, a una tradizione ma anche a un futuro che noi vogliamo avere e vogliamo raccontare per il nostro territorio. Con la cultura si mangia e la cultura fa stare bene, fa stare meglio tutti. La musica poi è la cultura che ci accompagna dalla mattina alla sera qualunque cosa facciamo anche se non stiamo solo con l'orecchio teso e quindi è tanto più importante. Nel 2016 è stato ospitato a Torrita di Siana le finali europee del blues che ha visto partecipare artisti di 22 paesi europei e che comunque è stata una manifestazione bellissima ma che ogni anno si ripropone con artisti di fama nazionale e internazionale per tre giorni di bella musica, cultura e intrattenimento e anche temi sociali. Viene sempre fatta anche una cena dove quest'anno insomma il tema è ovviamente l'Ucraina e l'incasso sarà devoluto agli ucraini e tutti i richiedenti aiuto e c'è sempre anche uno scopo molto sociale. È una bellissima manifestazione dove la musica fa da protagonista e insomma io invito tutti a partecipare al Torre Tablus dal 24 al 26 giugno. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro speciale TGT. Prossimo appuntamento con informazioni dal Consiglio regionale della Toscana e alla prossima settimana. Grazie per la visione!